E questo fondamentalmente per chi se l'era perso è la versione nerfata dell'Explorer, del Pioneer Convoke, aggiornata a Wilds of Eldraine perché la grande aggiunta diciamo è stato Regal Bunnycorn che ha creato anche questa versione separata dalla versione congeganta perché? Perché Regal Bunnycorn grosso in quella maniera ha fatto tornare in auge in qualche lista anche l'Embercliffe, la clava a 0, no non è a 0, a sto giro è a 2 però comunque con il Bunnycorn che tranquillamente in questo mazzo è 10-10, praticamente è quasi OTK, la differenza c'è rispetto al Pioneer è che qui abbiamo i moderni recruiter che non è bashwacker, costa uno in più, alla fine se lo vai a guardare, però non fa cagare, fa due cose fondamentalmente, ti dà late game in una situazione di merda, cioè per dire arrivi in un punto di stallo contro un altro mazzo Mirro, un altro Agro, comunque se hai un punto e sei al top deck e sei lì peschi questo, comunque con 5 fa due token e poi dopo fa anche, cioè è Force of Nator Savage Roar per ricordare i vecchi tempi di HS, quindi è buono il fatto che comunque sia 2x1 in una carta che poi effettivamente io l'ho fatta spesso l'avventura 5 in late e poi vabbè dal colpo finale la grossa novità comunque rimane Bunnycornoclava che dà una grossa soddisfazione, sai cosa darebbe anche una grossa soddisfazione? Raggiungere i 500 download su Sunrise Village perché in questo modo potremmo fare il raduno ufficiale della Gleba a Milano, è tutto organizzato, è tutto pronto, abbiamo fatto il menu, abbiamo deciso che io voglio regalare una bustina di figurine a ogni partecipante e per fare queste cose servono fondi, chi me le dà i fondi? Loro! Se raggiungiamo 500 download, quindi punto esclamativo Village in chat e in descrizione e nel commento pinnato su YouTube basta cliccare il link, scaricare il gioco sul vostro telefono e poi lo potete anche togliere appena finito il download, basta scaricarlo, mi raccomando, ci teniamo tutti a vederci al raduno, bello, grosso, gonfio e pacioccone. Allora, tecnicamente quel mazzo lì costa 18€ il monored budget standard, costa 18€, va a 50€ se ci metti un calderone. Io ho semplicemente tolto un calderone e messo Hertz. Fine. Eh, Pluto, per forza, devo strimare, oggi sono Dying Tail. Eh, è già comunque l'ossodonte di terzo questo. O prima. Ma si fiasca da fine mese. Sì, vabbè, ma Hertz sta... No, sta tipo a 6, a 5,40€. No, si trova, si trova. Guarda, è Doomscar questa. Ora c'ho l'ansia. Ora c'ho l'ansia. E... E... Ma è una ratta, questo. Grossi. Ciao, bello, bonjour. Ciao. Giro. Emperor. Ok. Cazzo è questo fortello? Epifani. Eh, la Doomscar. Va bene. Eh, vabbè. Quello non ho giocato tutto. Eh, se riparte bene, non si, eh. Dopo so, Kenzan e l'ossodone. Ok. Sorcery Wrath. Sì, Sorcery Preskino mi piace sempre. Ok. Ok. Dai, non bratta di nuovo, vero. Ok. Ora fai Tefery e qualche altra sporcizia. Non bratti di nuovo. Tu non bratti di nuovo. Tu non stai per brattare. Tu non br... Non lo stai brattando di nuovo. Non me ne vedo un cazzo. Va bene. Ah. Quindi a stappa 6, mana. Gio. Va bene. Se fosse alla giapponese, Gio. Gli scottini mi vanno anche bene. Basta che poi non bratti il turno dopo. Faccia del cazzo. Ok, Amber Cave non lo userò mai. Beh, lo subito contro Lotus Field, cazzo. Sì, vabbè. Buono. This is hardly my worst E sto cazzo Si va bene Magari pesco l'altra clava dopo Cioè è un Lotus Field che non ha visto Proctor ecc Che bot abbiamo per spaccare i troller? Nulla Niente Possiamo tappare con un altro removal Attenzione 3, 6, 9 12, no Vabbè si è attaccato vuol dire che qualcosa c'ha Dobbiamo Gobakan per non farglielo fare Dopo Dreamtroller E Raydan Ok dai non mi ripido più Va bene Now we know Now we know Raydan Gobak Via killer Via clava Eeeh Probabilmente anche un lusso d'onte Un po' pericoloso Mi chiede di avere I convoche sono periolosi Quanto l'avrà Lui perde da turno 1 Glyful Perché 3, 1, 1 di prima Non li regge Ok Perfetto Tra l'altro turno dopo Flipple Landing Subito Buona partenza perfetta E' questa Più Mulligan a lui Mi spiace le bellissime sleeves Della Pocalisse Giungito Però Eh troppo forte Troppo forte Cioè questa partenza Vi è addio No caro Wow No è imbattibile Invincibile Cioè questa partenza Vi non puoi perdere Mai Contro nessuno Ma nemmeno contro aggro Puoi perdere Non lo so del genere Cioè ti hai fatto 3, 2, 2 di secondo In bersagliabile E cioè Quella Se parti con la mano perfetta Vinci Sempre Con questo avanti Che proprio Non dai il tempo Alla gente di regge Minchia 3 raidane Ok risolvimelo Che non puoi avere Il tempo di reggere On the draw Poi Cioè Turno 1 3, 1, 1 Turno 2 Ti tolgo Una carta Dalla mano Arena Ha già fatto Una piccola Laggata Momentanea No no Ci sono Ci sono Ha già fatto Uno piccolo Laggino No Mi ha laggato Un attimo E questo è un problema Un attimo Il problema è anche non aver perso la terza terra Ok Sì vabbè c'hai 380 mana abbiamo capito Ma cosa ci facciamo con questi 365 mana? Vratta instant non esiste Quindi anche se c'hai il mana per fare due vratte Io dopo il primo array rotto Non può fare niente Mi fa 4 discontinui Oddio Sì vabbè Minchia Bant È ancora più antipatico a Zorius Cioè letteralmente Invincibile contro Agro Come cazzo fai? Devi partire bene Devi partire bene L'avete visto come si vince Basta partire ignorante Binstock non comune da 5 euro Ve lo dico Super il fagiolo Non comune di Dio Si giova in vintage Tra un po' Vediamo che ne ha regalato uno foil Io No aspetta 1 1 2 1 2 1 5 Si Bello pensare di farsi la curva Fino a turno 3 mentale Si si Aspettala Parmo Goif Niglio Goif Il niglio verde Poi se era verde era bellissimo Era il niglio verde Invece il niglio bianco Il niglio verde avrebbe fatto molto ridere Me E basta Probabilmente solo me Però fa ridere Come cosa Dai il niglio verde fa ridere Ho ucciso tu con le bambine No Il niglio verde No Pescavo il clavo Mi hai rotto il niglio E pescavo il clavo Uh Sono schiaffi questi Abbondanti anche C'è un removal C'è qualcosa Rushwalker budget Eccolo Il trentasettesimo removal Di oggi Abbongi Abbongi va bene Grazie Dubbioso Sei dubbioso Ma non nel fare la sub Grazie per i diciassette mesi Ci bobbe Posso chiudere Non ora ma il tunno dopo si Tra l'altro Ricordatevi che la clava sul niglio Dà più due Il botto nuovo è Inside board Che siderò adesso Mmm Rimuva l'è persa comunque Quindi non Ok maybe not So tanti tesoro So tanti Clavasuniglio Che bello Che bello clavasuniglio Che bello clavasuniglio Ma che Pole collision landing E' difficile attaccarne con tre Senza chi No dio Clava ora lo sa Una la posso togliere Male Vai se puoi scontattare bene Ma dopo il scontotto Che bello Che non ci sono orchetti Beh diciamo Che appena pesco un artefatto Faccio cold Che bello Allora qui il king rompe il tesoro Niente Dai Ornitottero Attenzione Allora Grazie. No. Allora, se lui per caso riprende il matto folle di attaccarmi con le cose che io pare, il turno che pesco un artefatto, faccio cliff full recruiter, gli tiro un milione di danni in testa. Grazie. Bella, ma forse ci sono novità su Capretti. Dai, un artefatto, voglio un artefatto io. No. O poi il K2, lo so. Va da uno, spavaldissimo. Andiamo a quanti mesi ci metto a pesca un artefatto. Troppi. Eh, vabbè, succede, è la briccata. Chi gioca a mano red pauper lo sa. Allora, lo stodonte è molto forte. Clava rischia di rimanermi troppo in mano. No, però Clava mi serve per passare sopra Shehold, oltre a Frenzy. Però poi ho troppi payoff dell'avere tanta roba, no? Perché tolgo l'ending, sì. Perché, cioè, veramente, io di dodici pezzi con l'artefatto non ho visto nemmeno uno. Vabbè. Daglie. Grazie, Matti. Oh, questa è una partenza, figa dio figa. Stare la potenza Glidebine Tail, certo, certo. Poi, peraltro, è un quiz di cultura generale. Quindi, sicuramente, farò una figa di merda gigantesca. E che io ho un problema grosso. Non lo so, ma so che tanti sono come me. Sono una persona molto acculturata solo di quello che mi interessa. Cioè, delle cose che mi interessano so tutto. Delle cose anche scontatissime per la gente normale, che però a me non interessano, non so niente. Tipo non chiedermi nulla di geografia, per esempio. E quindi potrebbe essere un problema. Però, vabbè. Che io non ho cultura generale, ho cultura specifica. Sono proprio l'opposto della cultura generale. Io. Quanti come me in chat alzate la mano? No, no. Indovino se chiederanno. Lo so bene. È proprio... È un coso di cultura generale. Io giro tutto, se perdo un 1-1 non me ne frega niente. Ci sono danni fondamentali. Pesco la terza terra. Però fa massacro e piango per sempre. No, 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 no. Questa è una bestia la geografia Io no Cioè per dire Uh li schiaffi Convoke boys Quando gira sto mazzo è devastante No sta fuori di test E non abbiamo un bashwalker Che costa uno meno Se lo giochi in doppia spelle Assurdo Piegolo Ho giocato 14 Non vedo l'ora di stilargli Quei succosi punti I punti pene Male Bella Piazza Una piazza questa Una piazza saia Giganta mirror O sacrifice Aia sacrifice è male Non si è parto così Giand Uno due Boat Sì pushami un epicura Per favore Ah no Persa È a Trax Ah no C'ho già un killer Che cazzo bene Il cariotto Ma piazza il cariotto Ma piazza Se vuole tradar il cariotto Che c'è Sì, sì. Tutto ti togli Ah ok Se ha 9 Non ho d'accordissimo No al Tozzi Dovevo giocare Vabbè se lo giocavo lo rompeva In realtà una speranza ce l'ho Si chiama Amber qui F Non ho d'accordissimo No, l'ending più è forte Boh, oddio, no Sì, esatto Io lo gioco, giant killer E a Traxa gliela tappiamo Lo costringiamo a tapparla Ho visto che ho avuto uno kill sul telegram No, di cos'è? Ah, coldro, minchia No, di cos'è? 23 terre Rakdos contro l'historic Sono giusto o poche? Sono poche di almeno 3 Si gioca a minimo a 25 terre un mid-brand Qui se era furbo doveva sedare 6 remisseri Ho sbagliato tantissimo Ho sbagliato tantissimo Ho sbagliato tantissimo No, non mi piano è troppo Ho sbagliato tantissimo Come ho sbagliato tantissimo Dì twoi Per il bannihorn o cosa bella? Per il bannihorn o il cuneo Il cuneo Il cuneo grazie pomodoro grazie per il terzo mese un altro gen killer al volo no niente attrax ha male attrax ha male 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 come ci appaccio brutto 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 oh ivano affonda builds of gold adunda builds of gold bella sta mano di hearthstone oh my gosh ma porco sembrava non ci avesse niente dredbor no 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 terza sera la voglio se poi si convocca almeno posso farla dalla prossima le ciclo adunda builds of gold lui scrui no no male no male che dolore che dolore vedere questa cosa 90 euro nel cimitero ok si però si però mannaggia tutto ciò che è mannagibile no i draft pack e booster pack booster pack vuol dire qualsiasi cosa cioè booster pack è il è il pacchetto è il pacchetto è il pacchetto poi ci sono i draft booster pack i set booster pack i collector booster pack booster vuol dire spinta cioè è il pacchetto che ti spinge la collezione in avanti di ogni pacco è un booster pack sì ma io non posso pescare così marcio lo sodone anzi il peschino anche me va bene Elzi va bene briniamo mamma Morti E ti segue Guarda buildare un deck Converrebbe prendere uno precomposto Scegliere una serie e sbustare a manetta Cartaceo o rena stai dicendo Cartaceo Compra le singole Allora ti dico Con 20€ ti fai il monored in standard di adesso Che è tier 1 in standard E comprali su cargaincorner Punto schiamativo corner 10% di sconto Usando il codice delmo10 Più forti del mondo Beh dai E almeno uno dei due Uno dei due convoche lo dovrei dire subito Però trovare posti dove giocano standard cartaceo È il difficile momento Sbaglio Vabbè te lo giochi per i cazzi tu Con i tuoi amici E poi da gennaio Ci so I torni delle WPN Da gennaio C'è i PTQ C'è la season standard Ufficiale In Italia si giova tanto power Sì ma senza copertura competitiva In questo momento standard costa meno del power No joke Non sto scherzando Standard in questo momento costa meno del power In standard ci sono un paio di mazzi Te li fai con 30€ In power Per le colpe delle staple power Ci sono delle comuni neostante 10 Quindi No Moroso te lo fai con 20€ Ci danno in standard 20€ Basta che togli il calderone E metti al licenze d'herz Fine Se è il ragazzo di Padova Sembra come Sembra che Padova sia una persona C'è una lista in questo red Punto schiamativo YouTube È uno degli ultimi video che ho messo Topsy Ma tu sei il fidanzato di Padova Figura di Dante Figura di Dante La glove box è la scatola di vetro Con i guanti Per toccare le cose che ti uccidono Bellissimo Mi piace E manda la foto Si Devo parare con tutto Vabbè gli ho fatto usare Un'altra esatta Cazzo Questo mazzo Non ha via di mezzo Mazzo O Finisce il gas E Hai già perso 8-1-3 Perché non peschi più niente O Hai distrutto tutto Che sembra di giocare Vintage contro standard Cioè Praticamente Che è 90 o 10 Sto mazzo Praticamente Praticamente Non peschi convoca Se non peschi I 7 convoca Fa schifo Vabbè Poi Con 21 terre È questo Una cosa un po' più grossa Siamo nella foto di Pango Impelagato negli elementi chimici Bella Molto bella Pango Molto bella E dai No Non è vero Non è vero Non è vero Non è possibile Aaaaaa Maia Grande Vance È uguale Troppo uguale A Vance Questa è la mano Con una terra E una mano Meglio di quella di prima Ci sono i convoc Non mi serve altro Una terra Vinto Esiste nel magic Una creatura A costo 1 Che faccia 2 pezzi Il minimo è 2 Vero Il minimo è creatura A costo 2 Per fare 2 pezzi Non esiste una creatura A costo 1 Che fa un token Anche 0-1 Che io ricordi No no Terra Creature Si c'è il Calni Gardner No no Creature A costo 1 Che facciano 2 pezzi Non ci sono Guarda che partita Diversa di magic È quando hai in mano I convoc Dio Cristo No no Due creature Chialento fra È terra All'Italia Madonna che stecca Ecco così Deve girare Sto Hors of Midrange I classici Disney No Legend Land Qui è forte Ce l'avrà? Ce l'avrà? Ci bobbe? Di sicuro Ce l'ha di sicuro Però finché non la vedo Io non posso sedare Io devo far finta Che sia un Hors of Prison Control Cazzate Partenza di Die Speriamo No Facciando si tappa Non faccio 2 volte Lo stesso del vove Non fare doppia Se fai la quarta Ah ok Ah è un pharao Minchia Quanto era E non vedevo Un mazzo Gift Qua era una vita E non vedevo Un god pharao gift Non gira mai Non può girare Faro gift Adesso Ma poi c'è Hamburian Rites Che cazzo ci fai Con faro gift E' la vanquista E' la vanquista L'urdenza Male Esatto Esatto Volter Era da Lo standard Di Amon Cat Forse Forse Ma neanche No Forse è stato visto Forse è anche quando Appena è uscito Amon Cat In historic Qualcuno aveva fatto Un pharao gift Amon Cat Amon Cat Sì Questo è un mazzo Constructed Di Del 2016 No vabbè C'è C'è le carte nuove Però Lo stile è quello Voglio dire Ok Bravo E chiaramente Però vince Anche senza Ressi Se mi resti in pista Non lo counter Dove devo chiudere? Dove devo Com'era Ah merda Devo solo sperare Che scombi poco Sì Indra Il Convoke Pioneer Portato all'Explorer Questo Rending Volley Se non è lento E poi non fa qua Fa cinque Cioè Fry Servirebbe Dio lenta Sta mano Ma veramente Proviamola Eh Indra Se sei abituato ad arena purtroppo Allora Historic Explorer in realtà Pioneer In realtà è un bellissimo formato Pioneer C'ha un problema gigante E mancano quelle due o tre carte Fondamentali per renderlo tale Tipo Le carte con Delve per giocare Fenici Che è in assoluto uno dei migliori mazzi Del Pioneer E non si può giocare in Explorer perché mancano tre carte Treasure Cruise, Dig Through Time E quell'altra con Liliana nell'artwork Non mi ricordo mai come cazzo si chiama Quella mitica di... Dai, aiutatemi Dai Dai, ragazzi Figa Dio, lo sapete Dai, forza Vinta i turni Sì Però con Tarky dovrebbero arrivare Sì Niente, questo mazzo lo canoscia Un temporal trespass, bravo E... È bene bene o male male? Questo mazzo è bene bene o male male? O parte invincibile Diventa il mazzo più forte della storia Che proprio non puoi fare niente Un altro livello Oppure una merda Quindi è fondamentalmente Uno, tiro di dado Perché on the play, on the draw La differenza è fondamentale In questo mazzo qui Due, qualità delle pescate Forse magari con mulligan più aggressivi Puoi fare meglio Mulligan per doppio pezzo Più convoc Sì Però diciamo È un mazzo che porterà in ladder Sì È un mazzo che porterà in un torneo Pioneer Non lo so Probabilmente Porterei finici Una cosa un po' più solida Che gira un po' più Sem... Che gira più spesso Diciamo Meno a... Che si affida meno al... Al mulligan Ma vi ricordo Ovviamente Punto schiamativo village Ragazzi Una cosa fondamentale Che potete fare voi Invece di Scegliere che mazzo Portare al torneo Pioneer È usare Tre secondi Della vostra vita Per premere Quel link Dal vostro telefono E installare Sul vostro telefono Sarage village Che poi potete Benissimo togliere Però è solo Il download È importante Link in descrizione E commento pinnato Su youtube E qui su twitch In chat Grazias Tutti È usare